Senti Luca, io sono contento perché noi avevamo ragione, finalmente sembra che la Lega, l'Osservatorio... Ma tu come al solito sbagli tutto, anche se abbiamo ragione non ce la danno, quindi cosa vuoi avere? Noi abbiamo detto che i tifosi ospiti sistemati al Manuzzi in questo modo osceno, cioè quelli con la tessera nella curva ospite, e quegli altri invece nei distinti, non so come si chiamano, contornati da un nugolo di Stuart che tutti i soldi buttati a mare non andava bene, adesso sembra che li mettono, siccome la curva è divisa in due, parte sopra e parte sotto, giusto no? Allora questa in effetti è la possibilità la più concreta dopo che c'è questa maggiore flessibilità temporanea, chiaramente per interpretare i provvedimenti di legge, però qui si corre poi un rischio. Sicuro il rischio di quello che è successo a Verona? Cosa è successo a Verona? Una ventina d'anni fa, una volta, è storia, è storia, sei tu che ti interessi solo di Garibaldi, di Cavour, poi ti sei fermato lì. Anche Massini. Cosa è successo? È successo che giocava il Verona che poi vinse lo Scudetto contro il Napoli di Maradona, c'era lo stadio tutto esaurito, tranne un piccolo spicchio sotto alla curva, anche lì divise in due. Lì era tutto vuoto. E perché? Perché era diventato, si urinava da sopra, faceva la pipì di sotto. Non è bello. E non è bello, però era, e non era neanche pipì santa come quella dei bambini. No, 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 no. E lì non c'era nessuno. Questa è stata la prima divisione della curva in due. Forse anche adesso a Cesena che li mettono parte sopra e parte sotto, magari. Per i ambendi no. E lì era successo, c'era anche un osi, o nosi o ranitoria. Comunque l'obiettivo poi che arriverà a breve è quello della tessera obbligatoria per tutti. Questo è chiaro. Potrebbe già arrivare addirittura nel girone di ritorno. Sicuramente arriverà la prossima stagione. Quindi in trasferta si potrà andare solo con la tessera del tifoso. E io e te la dobbiamo fare. Anche io e te? Eh, per forte. Lo spiego io perché. Me l'hanno detto da poco. Perché non ci vogliono dare la tessera del patacca. No, no, te lo dico, non ce la voglio andare. Ce l'abbiamo d'onore. No, 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 no. Ma lo sai perché? No. Perché siamo troppo patacca. Ah! Capito? Il problema vero è questo qua. C'è la gara dei patacchi e arriviamo secondi. E arriviamo secondi. C'è un limite, capito? Vabbè. Senti, ho visto che Bisoli, questo allenatore, che tu prima non ti era molto simpatico e dopo invece dicevi il massimo, il massimo, il massimo, il massimo. E' andata a Cagliari, l'ha insegato pronti via. No, quasi, pronti via. Guarda, io lo riprenderei sempre. Lui tornerebbe sempre. Non si può. No, non si può, però lo riprenderei sempre. Quello che mi dispiace è che l'altro giorno, in un campo di periferia, in quelle partite over 35, c'è stato un personaggio anche noto in città, che quando è arrivata la notizia che era stato esonerato, Bisoli ha esultato. Io dico che la madre degli sciocchi è sempre incinta, perché, signori, quello che ha fatto questo signore qua in due stagioni, nella storia di Cesena, non l'ha fatto nessuno. Ma adesso c'è un altro problema. Qual è? C'è il problema che a me, sinceramente, dispiace. Le difficoltà del Bologna. E non bisogna mai ridere dei mali altrui, perché sai, può sempre succedere di tutto nella vita, in tutti i campi. Io sono nato a Bologna, il mio cuore. Infatti ti ha cacciato via subito, ma questo è un altro discorso, la città è ispirato. C'è stato il boom degli anni 60, degli anni 70, vedi, poi se un giorno ci torni è la fine. Va bene. Anzi, non vorrei che tu... Secondo me è la fine del Bologna, anche senza, anzi, di Bologna, anche senza che ci torni io. Ma non vorrei che tu ultimamente abbia passeggiato lì, perché sai, hanno commissariato la città. La squadra ha dei problemi davvero grossi, quindi vuol dire che Morelli ci cova. Per fortuna che c'è la sede centrale del Carlino, che qui teniamo d'oro. Per fortuna. Comunque, cosa succede? Succede che chiaramente non sono stati pagati niente di quello che si doveva. C'è la nuova proprietà che si sta rivelando completamente inesistente. E quindi c'è non solo il rischio concretissimo di punti di penalizzazione, ma c'è un rischio molto più grosso che potrebbe poi anche eventualmente portare al fallimento. Ma vedi, c'è un altro problema. La Panini, la Panini... Panini di moda, nel caso tuo... Voleva fare un album delle società che in Italia, in generale, non sono fallite. Mai fallite in tutta la stessa. Mai fallite, mai fallite. E allora, insomma... Cosa è che è successo? Che erano tre pagine. La collezione si esauriva in cinque minuti e non hanno fatto niente. E allora forse lo faranno di quelle fallite e lì sarà molto... No, di quelle fallite vuol dire prosjugare le tasche ai paesi di famiglia nel comprare le figurine ai bambini. Quindi non si può fare. Addirittura ci sono delle società che sono fallite più volte. E lì cosa scatta? Scatta la pentavalida. Tu te la ricordi cos'era la pentavalida? La pentavalida valeva cinque valide. Spendavamo tutta la paghetta per comprare le figurine, sperando nella pentavalida non c'era mai. E a fine anno ti davano il premio, il più bello era il calcio balilla. E il più brutto qual era? Il più brutto era una penna perché voleva dire che dovevi usare la scuola. Comunque, domenica arriva al Palermo. Sì. Qui bisogna fare un punto. In tutte le maniere. Io ne vorrei fare tre, sempre. Io guardo avanti, guardi in alto. Allora tu tre punti li puoi prendere in una sola maniera. Perché in Champions lo stadio cadi e te li danno di struttura. No, 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 me ne danno molti di più. E te li danno di struttura. No, no, tre punti in classifica. Comunque l'importante è fare i punti. Perché non bisogna mollare fino a gennaio. E poi a gennaio speriamo che arrivino a qualche carriolata di giocatori e che risolva qualche problema. Intanto dividiamo la curva. Non bisogna dividere però la classifica. Perché se facciamo le squadre su e le altre in fondo siamo rovinati. Allora stiamo lì in mezzo. Facciamo noi la congiunzione tra l'alto e il basso. Morelli, sei pronto per andare in politica? Vuoi stare in mezzo intanto? Peggio di così non è che ci sia molte soluzioni. No, no, no. No, no, no.